Drudi, c'è il Montevarchi, risultati alla mano, è una delle squadre delle rivelazioni di questo inizio stagione, anche in conferenza il tecnico Auteri ha elogiato molto gli avversari di domani. Sì, è una squadra che sta bene, ha sei punti, l'abbiamo vista in video, è una squadra molto aggressiva, che gioca anche un buon calcio, quindi sarà una partita tosta, difficile. Lo scorso anno in Serie D Yalov è stata un po' la rivelazione, si è confermato nella categoria superiore, avete visto il video, quali sono le caratteristiche di questo attaccante? Dove dovrai essere bravo con i tuoi compagni domani? Un attaccante che attacca la profondità, è molto rapido, quindi dovremo stare attenti nelle letture, nelle traiettorie, fare una buona fase difensiva, compatta e tutti assieme. Stadio Adriatico e lo stadio di Carrara, due campi grandi, erba naturale, domani Ponte d'Era, campo stretto e in erba sintetica, cosa cambia? Cambia che ci sono magari meno spazi, si gioca più sul corto, loro sono una squadra aggressiva, quindi dovremo essere veloci anche nel giocare il pallone, però andremo a fare la nostra partita come sempre, facendo il nostro gioco e per cercare di vincerla. Ti chiedo un'ultima cosa Mirko, sarete qualche metro più bassi, aspetterete un po' di più o sarà il solito pescare? No, noi abbiamo la nostra fisionomia e abbiamo iniziato un percorso, dobbiamo continuare con questo percorso, fino adesso abbiamo sempre fatto la partita e cercheremo di farla anche domani.